Cultura ed enogastronomia, un binomio da tempo nelle idee di Confcommercio Marche Nord, promosso ora grazie alla prima edizione di Calici di Parole. Sette appuntamenti che si svolgeranno nella sede dell'Associazione per degustare libri di autori locali accompagnati dal buon vino del territorio. Per rendere realtà questa iniziativa è stata determinante la collaborazione con AIS, Associazione Italiana Sommelier, il supporto di Terziario Donna e il patrocinio del Comune di Pesaro. Calici di Parole vuole essere nell'anno di riconoscimento di Pesaro Capitale della Cultura 2024 un'attenzione alla cultura, un'attenzione agli scrittori del nostro territorio, comunque ai libri pubblicati nella nostra provincia in maniera particolare e quindi realizzare delle serate dove presenteremo i libri con gli autori abbinati ad una degustazione di vini del nostro territorio. Iniziamo già il 5 di maggio con Leonardo Marabini e la presentazione del suo libro I segreti dell'Aldiquà. Questo lo facciamo alle 18.30 di venerdì 5. E poi fino al 19 di giugno, più o meno ogni settimana, presentazione di libri e questi sono tutti veramente libri scritti nella nostra provincia. Penso al libro Metaura e le altre, scritto da Anna Maria Matteucci, che presentiamo il 17 di maggio. Poi abbiamo il 22 maggio, Umanestesia, che è il libro di Flavio Taini. Poi il 29 maggio, alle ore 18, invece presentiamo un libro di Cristiano Varotti, che conosco bene perché è mio figlio, Nuvole di Drago, dove si parla un po' della sua esperienza in Cina in tanti anni. Tutti abbinati a vini, scelti dall'Associazione Italiana Sommelier. Poi passiamo al mese di giugno, dove presentiamo un libro di Raffaele Papi, sull'incrocio Bruni 54. Il 12 giugno, un appuntamento per me e per noi di ConfCommercio molto importante, perché l'autore è Filippo Cannizzo, è un filosofo, ma ci teniamo molto perché presentiamo due libri, briciole di bellezza e lacrime di gentilezza. In entrambi ci riconosciamo molto perché parla della necessità di realizzare un sviluppo economico del territorio basato sulla valorizzazione della bellezza, che è quello che noi stiamo facendo attraverso il progetto itinerario della bellezza. Chiudiamo il 19 giugno con un libro di Nicoletta Tagliabracci, il titolo è Aura, Aura era la figlia di Federico da Montefeltro. Come è riuscito ad accostare ogni vino ad ogni libro? Qual è stata la ricerca? Ma qui abbiamo pensato al territorio, quindi libri del territorio abbinati ai vini del territorio, quindi siamo andati alla ricerca ovviamente di luoghi e di vini del luogo, quindi l'idea è stata questa e non siamo entrati molto nel dettaglio. In più, nella presentazione dell'aperitivo insieme ai vini, quindi i Bianchelli, piuttosto che i Montepulciani, i Sangiovesi e altro, e nel mio caso i Incroci Bruni delle Marche, faremo degustazione di bruschetta dell'olio.